è bella tutta perché ci sono questo drago mozzano 2 perché voglio raccogliere le sfere del c'è voglio raccogliere un po' di cibo per raddarlo a ma cibu e finire le uova alterate perché ha detto towa che ragazzi mi sapete c'è io vedrete 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 per quelli che non conoscono ancora i ragazzi sperano di farmi il gremio raccogliere un po' di cibo per immagini perché manca solo la casa che non c'è tutta la spia le solite cose magari andiamo a scomprare un po' di cibo e un po' di oggetto con il po' di comprare ragazzi comunque vi ricordo che cibo vi ricordo che sta per uscire a di questa facciamo almeno i cibi e di guardare cioccolato un po' spogliato andiamo a dargli un po' di un caro ma i bumbi e mi roba tutto di un trasporto e cavolo e cioccolato andiamo a casa la serie ritorno di Red Cold potrà cioè continuerà comunque ho fatto già questo dedo e le posso soltanto pulitare e lo posso già caricare allora vediamo vediamo se gli basta vediamo se gli basta vediamo 10 altri 10 va bene ne vuoi ancora 5 ah ne vuoi per forza 5 attenzione va cagando il cibo rosso attenzione il cibo rosso è nato un primo in più poter dire tanto un trofeo quindi ma in buio mio padre allora tu sei mia madre non grazie e del cibo a quanto pare vuole ancora cibo è altro cibo è creato solo uno e ne deve creare così dobbiamo raccogliere altri ci vediamo bene nel frattempo andiamo a canto sì andiamo a questo è un po' bene allora andiamo a cosa fare a caro vecchio una lilla eccolo qua chi sei di queste parti non sembri così male vabbè non ce ne frega questa è la prima volta che ho il faccio con il senso vediamo che cosa hai per noi nel cioè in realtà l'ho fatto siccome ho ricominciato il gioco è quello che vi ho spiegato nel canale comunque andiamo a prendere le sfere del drago perché perché per questo perché perché ci confuso a prendere le sfere del drago solo per proteggere una mecca signori questo può essere molto interessante per noi e per noi perché lui almeno dice almeno le sfere del drago non Non lo so, non lo so, non lo so. 2 Sì 3 Bene Sì 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 Voi Sì no, è un po' è un po' regatto this me chiamo quando rascolto questo è un po' regatto con un bucchio you're bound to get stronger I know it ci vediamo quando avrò preso abbastanza cibo ecco siamo tornati ragazzi e ora ho preso guardate quanto cibo per e il massimo 17 attenzione ragazzi attenzione magimu attenzione magimu e ragazzi abbiamo un altro si posso mangiarlo certo 25 sazietà un altro quante ne abbiamo? 1,2,3 e 4 ti prego spero che spero che ce la faccia 25 ragazzi dopo di questa ne manca uno solo di uno più cibo solo di uno più cibo infatti ragazzi è in metà ragazzi ne manca uno a quanto vedo ne manca uno guardate però abbiamo allargato la famiglia di magimu attenzione attenzione ragazzi ci vediamo quando l'ho raccolto altro cibo fermagino ragazzi mi sto per andare a portare la famiglia di magimu ragazzi spero che io spero ma sì un uovo temperato che è il penultimo un uovo temperato il penultimo ragazzi ragazzi noi dobbiamo passare da uno fatti per trovare gli stocisti per favore tip 14 non lo dicevi prima ragazzi l'ultimo figlio di magimu si gli ascigo giallo cosa no quanto pare allora ho contato male aspettate uno due tre quattro e cinque se l'avevo contato male erano ragazzi l'ultimo figlio 25 ok questa volta è vero ragazzi perché stavolta non è possibile l'ho contato ma anche stavolta per favore ecco qui me ne manca uno ragazzi me ne manca uno guardate tutto ho fatto tutto me ne manca uno io spero di recuperarlo al più presto off camera però io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che appunto avrete capito come dare da mangiare a magimu questa era una specie di anche tutorial per quelli che non lo sapessero ma credo che lo sapiano tutti quindi ragazzi io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video cioè appunto continuare il nostro saga che abbiamo creato nuova serie è appunto il ritorno di Reckold Dragon Ball il ritorno di Reckold e quindi ragazzi noi ci vediamo al prossimo video vai la ringa